Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica inoltre si segnala che a causa di lavori fino alle 8 di domani rimarrà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la 1 direttissima in direzione Roma. Passiamo sulla FIPILI dove a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita alla strassigna provenendo da Firenze. Sempre in FIPILI in direzione Mare si ricorda che fino al 31 ottobre per lavori di risanamento acustico sarà in vigore un restringimento di carreggiata tra Firenze Viadotto Indiano e Scandicci. Scambio di carreggiata sempre a causa di lavori anche sul raccordo siena Firenze tra San Casciano e Impruneta Greve e Inchianti con possibili rallentamenti. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!